Il presepe nasce come scuola di sobrietà e questo ha molto da dire anche a noi. Lo ha detto Papa Francesco nella Catechesi dell'Udienza del Mercoledì dedicata agli 800 anni del presepe creato da San Francesco d'Assisi a Greccio. Il rischio oggi è di smarire ciò che conta nella vita, secondo il Pontefice. Un rischio che diventa paradossalmente più grande proprio sotto Natale perché immersi in un consumismo che ne corrode il significato. San Francesco non vuole realizzare una bella opera d'arte ma suscitare attraverso il presepe stupore per l'estrema umiltà del Signore per i disagi che ha patito per amore nostro nella povera grotta di Betlemme ha ricordato Bergoglio evidenziando che il presepe nasce per riportarci a ciò che conta Dio che viene ad abitare in mezzo a noi. Per questo, secondo il Papa, il presepe è come un Vangelo vivo, un Vangelo domestico. In questi giorni vedremo Dio adagiato in una mangiatoia e il più forte messaggio di pace per la vita di ognuno di noi e per il mondo di oggi, ha proseguito il Santo Padre per poi sottolineare che quella frenesia di andare a fare le spese attira l'attenzione da un'altra parte e non c'è spazio per quella sobrietà del Natale non c'è spazio interiore per lo stupore ma soltanto per organizzare le feste. Vanno messe le persone prima delle cose, ha concluso Francesco. Tante volte noi mettiamo le cose prima delle persone e questo non funziona.